Tutto questo perché non è che vogliamo un accanimento verso chi fuma, ma semplicemente ridurre i fiuti prodotti dal fumo, in modo particolare quelli gettati creando disagio e danno all'ambiente. Il divieto di fumi in spiaggia è entrato in vigore. Il Consiglio Comunale ha infatti approvato a maggioranza la modifica al regolamento per la gestione dei rifiuti. A favore anche i 5 Stelle ha stenuto invece il centrodestra che ritiene le norme troppo generiche. Il divieto è assoluto sulla battigia, sulle spiagge libere e fino a 200 metri dalla costa, fatta eccezione nei bar e ristoranti. Concesso anche sotto gli ombrelloni, negli stabilimenti balneari, solo se la distanza tra questi è di almeno un mezzo metro e si è dotati di posa cenere. In questi anni abbiamo fatto tanti interventi a favore dell'ambiente, plastic free un po' di mesi fa, adesso il divieto di fumo che in realtà noi non vogliamo che la gente butti la cicca in acqua, nello specchio dell'acqua o nella battigia della spiaggia. Ci sono accanimenti ma c'è un tema di salvaguardia dell'ambiente, di tutela dello spazio dove stiamo e il rispetto anche delle persone. Altra notizia importante per il comune di Fano arriva dalla regione Marche che lo ha riconosciuto ente capofila per il progetto delle città sostenibili e amiche dei bambini e degli adolescenti. Diventa un risultato importante perché è un riconoscimento di Fano per la sua storia, per le cose che abbiamo fatto in questo settore e quindi questo ci rende orgogliosi ma è anche un motivo per crescere e diventare sempre più protagonisti.